Il campionato incombe, ma in casa Virtus il mercato continua a tenere banco. Dopo la presentazione dei nuovi arrivati e rinnovato il contratto con il centrale difensivo Trust, che rimarrà in rosso-nero fino al 2016, mettendo un po' a tacere le voci di un suo possibile accasamento altrove, il direttore sportivo Luca Leone è sempre vigile. Il motivo è presto detto. Piccolo, Falcinelli e Gatto sarebbero nel mirino di alcune squadre. Falcinelli interessa diversi club, tra i quali il Varese dell'ex trainer Gautieri, Gatto piace a Cittadella e Latina. Più difficile è l'accessione di Piccolo. La società sarà disposta a farlo solo a cifre importanti. La fibrillazione ha spinto Leone a cautelarsi, chiedendo alla Fiorentina la punta croata di vent'anni ante Rebic. Staremo a vedere. Domani intanto la parola passerà al campo. Al Biondi arriva il Brescia di Bergodi, formazione in grande crescita, che nelle ultime otto giornate del campionato ha incamerato 16 punti, frutto di quattro vittorie e altrettanti pari. E' proprio il segno X, è una delle caratteristiche delle rondinelle, con ben 12 pareggi. Inoltre, fuori casa il Brescia ha un ruolino invidiabile, finora un solo stop a Latina, ma sotto la gestione Giampaolo. Qualche apprezzione per Bergodi, che deve valutare le condizioni fisiche di Sodinia, Corvi e Zambelli, mentre il bomber Caraccelo, rimasto a riposo precauzionale, sarà sicuramente della partita. Infine, sul fronte cessione della società alla MAPI Group di Giampietro Manenti, si registra una fumata nera. Nel Lanciano, Baroni deve decidere un paio di cose. Intanto, chi fare giocare in difesa, al posto dello scolificato Amenta, il favorito Equilanti, ma c'è anche la soluzione Ferrario. E poi, in avanti, dovrebbe schierare dal primo minuto il neo arrivato Comi, mentre Ragazzo dovrebbe partire dalla panchina, così come il terzino Nunzella. All'andata, finì il 2-2, arbitro dell'incontro, Candussio di Cervignano del Friuli. All'andata, finì.